È un etto formale che ha visto protagonista il Consiglio Provinciale nella proporzione di questa variante per la realizzazione di un'opera che è centrale e fondamentale per il Comune di Belluno, cioè la sostituzione del Ponte Bailey e la realizzazione con un'opera importante per la viabilità. Ci sono dei movimenti formali, nel senso che il progetto aveva bisogno di acquisire tutti i pareri, era un'opera di interesse pubblico e quindi sulla base di norme regionali il passaggio nel Consiglio Provinciale.